Facciamo una considerazione post-elettorale. Lei mi diceva che non ci aspettavamo di più, soprattutto al Sud. Sì, ci si aspettava ovviamente un risultato diverso e questo come analisi, come autocritica, la dobbiamo assolutamente mettere sul tavolo. Come il Movimento deve ritornare a pagare ai territori, soprattutto non abbiamo mai avuto un'exploat sulle elezioni comunali, però sostanzialmente l'organizzazione territoriale che è mancata nel corso di questi anni si deve metterci mano in maniera rapida. Poi, una volta che si è creata una struttura territoriale, andiamo a capire, a comprendere, a programmare quali saranno le linee politiche future che vogliamo mettere in campo di visione di questo Paese perché è cambiato profondamente questo Paese. Le esigenze, se torniamo indietro cinque anni fa, nessuno parlava di transizione. Oggi è un elemento alla base di tutto, quindi siamo convinti che abbiamo influito parecchio nelle scelte e in qualche modo abbiamo anche subito degli eventi che ne hanno condizionato e velocizzato il percorso. Dall'altro, però, le esigenze dei cittadini oggi pongono al centro una serie di questioni come quelle del potere d'acquisto da un lato e soprattutto del caro energia che sta mettendo in difficoltà sempre di più le famiglie, la piccola distribuzione. Arriveremo a delle difficoltà serie a settembre-ottobre e vediamo anche i scenari internazionali di riduzione dei flussi di gas che possono ancora di più accentuare questo rischio. Credo che noi dobbiamo veramente dare una risposta concreta e puntuale su come vogliamo garantire un sostegno a questo Paese dal punto di vista del potere d'acquisto e garantire sostanzialmente la possibilità di uscire da questa crisi con delle misure e con delle visioni. E questo è un messaggio che dobbiamo trasferire sicuramente ai cittadini e ai territori facendo ripartire quello che in qualche modo da sempre è stato il motore pulsante del Movimento 5 Stelle, la partecipazione dal basso. Non è stato solamente un problema del Movimento 5 Stelle ma di buona parte della politica perché così tante difficoltà lei tocca questo punto, un punto fondamentale del radicamento sul territorio, del riconoscersi sul territorio che è la questione che è quel legame di fiducia tra la gente e poi il partito e il movimento di riferimento. Ma perché? Devo dire che ovviamente questa legislatura ha visto evoluzioni di forze in contraposizione in accordo e in governo assieme durante tre governi all'interno di questa legislatura. Questo sicuramente ha disorientato i cittadini e i lettori e non hanno compreso forse anche la diversità a un certo momento tra le diverse forze politiche perché l'ultimo governo è un governo annato su un'emergenza pandemica di visione nazionale e di unità nazionale. Credo che serva veramente ridare forza a quelle che sono le proposte e le idee di differenziazione che si intendono mettere in campo per dare veramente una linea e dire noi siamo questi che oggi stanno chiedendo una trasformazione green più rapida perché evidentemente lo vedete tutti sotto gli occhi di tutti la dipendenza dalle risorse fossili ci porta a squilibri finanziari. Dall'altro serve percorsi di accompagnamento salariare importanti quali misure come salario minimo per quei 5 milioni di persone che oggi percepiscono un reddito orario inferiore. Intanto il Presidente ecco Scholz insomma alle sue spalle insomma così come Draghi tra poco uscire a Macron insomma vanno verso l'incontro con Zelieschi. Rimaniamo su queste immagini mentre parliamo. Prego Griba. E poi il tema vero è come dal punto di vista territoriale noi riusciamo a dare delle risposte ai territori perché di fatto abbiamo sempre necessità di nuclei familiari di assistenza territoriale di famiglie in difficoltà di imprese in difficoltà e una volta la pandemia oggi la crisi energetica questi tipi di risposte seppur con miliardi e miliardi stanziati dal governo perché ricordo che abbiamo più di 28 miliardi stanziati ad esempio sui temi del cario energia il cittadino non l'ha percepito che non ha pagato di più anzi l'ha pagato comunque di più quindi anche gli sforzi economici che sono stati messi in campo al governo in qualche modo sono stati vanificati da questo aumento spropositato e mai visto negli ultimi periodi è qui che si deve inserire un percorso di veramente radicamento territoriale nel raccontare nel percepire i cittadini hanno bisogno di essere ascoltati e soprattutto altrimenti l'astensione diventa il primo partito da sempre il presidente Conte ieri l'ho trasmesso più volte l'ho fatto sentire l'abbiamo commentato parlando di conferenza stampa dopo il passaggio amministrativo ha detto io ho fatto campagna elettorale e tanta gente tanti dei nostri mi chiedono di uscire dal governo è una prospettiva reale quali possono essere nelle prossime settimane i passaggi critici che in qualche modo possono teoricamente aprire una strada di questo tipo guardi io sinceramente immaginare di uscire dal governo una condizione economica come questa del paese in cui ripeto ci sono condizioni per cui non sappiamo il prezzo dell'energia che avremo a settembre ottobre e conseguentemente abbiamo già imprese che non riescono a pagare la morosità sulle bollette è aumentata in maniera esponenziale il potere d'acquisto si è abbassato tantissimo una volta che usciamo dal periodo estivo c'è un problema ne abbiamo parlato prima noi stocchiamo in questo momento con l'ultimo taglio con il taglio del gas noi adesso avremo problemi a che fare quello noi abbiamo percorsi di stoccaggio del gas da un lato e quindi quando il Movimento 5 Stelle è stato anche un po' ironizzato quando ha fatto un emendamento per ridurre il consumo energetico della pubblica amministrazione abbassando di un grado tutti gli edifici della pubblica amministrazione guardate che lo scenario diventa quello di razionalizzazione dei consumi io credo che un percorso di questo tipo con bollette alle stelle prezzi del carburante alle stelle inflazione alle stelle noi non possiamo permetterci di dire stacchiamo la spina e poi vediamo come va avanti perché la responsabilità quantomeno di dare risposte ai cittadini anche se l'aspetto in un momento di estrema difficoltà ci deve porre critici sicuramente propositivi e in grado di influenzare positivamente per i cittadini quella che è la politica del governo nazionale ultima domanda e poi andiamo da Giorgia Finezzi che ci sta aspettando intanto abbiamo visto uscito anche Macron ultimo dei tre appunto a raggiungere il corteo di automobili che poi appunto porterà i tre all'incontro al confronto con Zelensky è il presidente Conte l'uomo della ricostruzione della transizione ecco mettiamola così insomma del Movimento 5 Stelle nuovo è lui il comandante che traghetta? Sicuramente oggi il presidente Conte è il presidente del Movimento 5 Stelle individuato per riuscire a dare delle risposte anche a questo momento di difficoltà di smarrimento della politica soprattutto anche del consenso del Movimento 5 Stelle quindi tutti insieme cerchiamo di lavorare per creare delle condizioni di proposte e di visioni politiche di come vogliamo il Paese nei prossimi mesi nell'immediato come dicevo sulle crisi che stiamo vivendo ma anche prospetticamente quindi diamo delle risposte che ci connotino in qualche modo in maniera definitiva e puntuale così da renderci riconoscibili anche dagli elettori sul percorso di visione questo sicuramente Giuseppe Conte ha già lanciato diverse segnalazioni come è necessario intervenire la parte sul salario minimo secondo me è uno degli elementi fondamentali quantomeno per restabilire un percorso di dinamica europeo tutti gli altri Paesi ce li hanno insomma in pochissima non averlo per 5 milioni di persone potrebbe cambiare un aspetto importante della loro vita una remunerazione minima siamo a dei livelli drammatici in cui quasi più del 10% della nostra popolazione è sotto la soglia della povertà ieri un esponente importante del Partito Democratico insomma alla luce dei risultati ovviamente si facevano tutte le considerazioni e trasmissioni ha detto noi dobbiamo aspettare il movimento cioè dobbiamo aspettare il loro momento di trasformazione e di assestamento parlando ovviamente di una declinazione insomma in termini di alleanze per le politiche ma guardi io nel rapporto col Partito Democratico credo che noi invece dovremmo essere quelli molto più di stimolo e di spunto perché dopo un governo di opposizione lo scorso noi siamo sempre stati quelli da pungolo di trasformazione e la trasformazione che abbiamo cercato di mettere in campo sia nella scorsa giustatua che le idee che abbiamo messo in campo in questa erano molto più di spinta green avveniristica rispetto alla visione che il Partito Democratico aveva da sempre e quello è il canale credo importante che ci debba connotare in maniera diversa perché per troppo tempo insomma da un certo punto un lato progressista di sinistra ha raccontato una visione green che però non ha mai messo in nero su bianco oggi le condizioni anche esterne hanno caratterizzato e reso più urgente la trasformazione le energie rinnovabili fino a qualche anno fa erano viste positivamente un po' forse radical chic oggi vediamo che l'altro giorno solo sulla produzione elettrica le rinnovabili con l'apporto del solare ovviamente nelle giornate particolari eravamo arrivati al 52% della produzione giornaliera e tutto il percorso cosa vuol dire quello che il 52% è in grado di stabilizzare un prezzo e che non dipende da comportamenti speculativi di chi oggi mi chiude il rubinetto del gas e mi fa schizzare il porto delle stelle quindi la visione che avevamo green era una visione economica solida e su quello dobbiamo veramente insistere in questo momento sembra che poi si faccia l'esa maestà in qualche modo a stimolare un confronto anche su elementi molto importanti il dibattito parlamentare credo sia fondamentale per cui noi lo rivendichiamo rivendicheremo sempre la necessità di un confronto come quella che abbiamo chiesto anche sulla crisi ucraina e con dei voti parlamentari che ci saranno la settimana prossima dall'altro lato però sul tema della giustizia mi permetto di segnalare due aspetti innanzitutto che i quesiti referendari sono ovviamente io sono andato a fare il mio dovere da cittadino ho votato ovviamente diciamo contrario rispetto ai temi proposti e questo in maniera credo lineare rispetto a quello che avevamo portato avanti perché consideriamo che intervenire azzoppando dei termini di legge così come veniva fatto sulle questioni referendarie sul tema della giustizia fosse un problema un errore dall'altro lato però c'è chi ha utilizzato questo meccanismo strumentale che in qualche modo è stato poi promosso non tanto dalle firme raccolte dei cittadini ma dai presidenti delle regioni centrodestra che in qualche modo hanno obbligato a una questione referendaria quindi ne hanno connotato anche politicamente l'impronta originaria dall'altro vediamo come si è dovuto attendere l'esito referendario per andare avanti con la riforma del CSM che in realtà in qualche modo andava a intervenire su delle modifiche alcune delle quali in qualche modo anche i meccanismi elettivi sono cambiati rispetto al testo che veniva proposto in approgazione dal quesito referendario quindi si è usato in maniera anche un attimo strumentale l'ipotesi che forse del quesito referendario poteva cambiare l'iter del percorso del CSM e della norma che era già uscita dalla Camera e si apprestava ad approdare al Senato credo in maniera legittima l'Ega abbia proposto degli emendamenti e poi l'Aula ne ha preso atto e li ha bocciati dall'altro lato però insomma non facciamo finta di non vedere che sia stato utilizzato un meccanismo referendario in questo caso per cercare di intervenire su un percorso parlamentare che stava già andando e su cui c'era già un accordo di maggioranza chiuso sul tempo sono stati consiglieri consigli regionali di otto regioni italiane a promuovere il referendum suffragati anche dalla raccolta di centinaia di migliaia di firme dopodiché noi lo ribadiamo che però non sono state depositate sì non sono state depositate però quindi sì esatto no no lo dicevo perché avevi segnalato che erano state depositate tutto lì era solo una puntualizzazione rispetto a quanto avevi annunciato milioni di firme e c'era un referendum a causa dei milioni di firme io solo ho detto che il referendum c'era a seguito dei voti dei consigli regionali tutto qua